Ci troviamo appunto in una bottega storica che significato ha essere diciamo colui che porta avanti un'attività che è nata addirittura oltre un secolo fa quindi noi vediamo, vedo foto storiche che riprendono Pistelle Bartolucci quando ancora non erano presenti nei tram, nelle auto e quindi insomma diciamo era un'altra Ferrara ancora Sì, ha anche un certo peso, anche appunto la location di fronte al castello, dentro al teatro comunale comunque ha il suo peso e ha il suo fascino a me piace molto anche quando vengono turisti da fuori raccontare un po' la storia del negozio ecco che è un negozio più antico d'Italia che vende musica e questo mi riempie ancora più di orgoglio ecco per quello che sto facendo ecco anche insomma niente di che però insomma sono felice Allora buona attività e lunga vita ai dischi a questo punto Lunghissima speriamo, lunghissima eterna vita ai dischi